Abbiamo 5.000 soldati sparsi in tre continenti con poca incisività. Noi sappiamo dov'è il nemico. Il nemico si trova in Siria e in Iraq. I terroristi che hanno occupato un territorio e da lì devono essere sradicati. Non possiamo più assistere a gole tagliate, a spargimenti di sangue. Dobbiamo riconoscere che l'unica forza che si sta attivando in prima fila, spendendo sangue loro in risorse, sono i russi. I russi li stiamo relegando, almeno l'Europa, in un ruolo di secondo piano e marginato. Dobbiamo coinvolgere i russi e dobbiamo fare la chiarezza sulla Turchia. Se sta nella NATO deve combattere l'ISIS e non comprare petrolio dall'ISIS e combattere aerei, abbattere aerei che stanno facendo la guerra a quella componente terroristica. Abbiamo chiesto questo. Basta gole tagliate, non vogliamo più vederne. L'Italia si attivi per finire questo scempio.